io ti amo davvero ho sempre paura che finisca da un momento all'altro il vero amore non muore mai è come se ancora mi stessi vicino perché non puoi sentirmi ho un messaggio da parte di sempre il grande amore vince ogni ostacolo molly sei in pericolo sei in pericolo conosco l'uomo che mi ha sparato il film più romantico di sempre darei qualunque cosa per poterti toccare ancora una volta ghost martedì in prima serata canale 5